Era il mese di marzo di cinque anni fa quando un dissesto franoso dovuto dal maltempo spaccò letteralmente il manto stradale in via Bevano nel quartiere di Carignano a Fano. Diversi tratti vennero chiusi al traffico per permettere i lavori di ripristino da parte del comune di AZSPA. Ci furono dei guasti sia alla rete del gas sia alle tubazioni dell'acquedotto in ghisa realizzate dalla società partecipata nel corso del 2009. La priorità dei tecnici fu quella di mettere in sicurezza i sottoservizi e di non isolare la frazione utilizzando delle autobotti. Poi col passare degli anni il comune sistemò l'asfalto in più punti ma ci fu un continuo movimento franoso. Per questo diversi metri ancora oggi devono essere completati. I residenti però iniziano a chiedere spiegazioni. Si tratta di due pezzetti di strada perché fondamentalmente la viabilità è discreta però ci sono questi due pezzetti qui alle mie spalle di un ventimetri ciascuno che presentano da parecchio tempo mi hanno detto adesso io sono qui da un anno però da parecchio tempo versano in queste condizioni. In pratica si tratta di strada completamente bianca quindi breccia che quando piove vi lascio immaginare insomma non solo quello che diventa a livello estetico di decoro ma anche di pericolosità. Infatti diventa più sdrucciolevole poi tra un po' arriverà anche il ghiaccio e insomma non aiuta. A peggiorare la situazione ci racconta Matteo è il passaggio continuo di trattori e altri mezzi pesanti essendo una zona di campagna. Il residente segnala anche i tombini esposti e la mancanza di illuminazione che rendono pericoloso questo tratto di strada. Già dallo scorso inverno visto peggiorare notevolmente la situazione abbiamo segnalato la questione all'ufficio tecnico del comune che ci ha risposto sì adesso stiamo valutando come se rifarla ma nel frattempo veniamo su a sistemare. Sono venuti e hanno rattoppato con del bitume sulla breccia che quindi ecco si chiude la buca ma alla prima pioggia il bitume va via con la breccia e si riapre una buca più profonda della prima quindi è già due volte perché poi sono venuti anche recentemente questo mese però la situazione è sempre quella qua non è che si chiede di fare una circonvalazione nuova o 10 km d'asfalto si tratta di 50 metri d'asfalto complessivamente.